Suggeri è andato al Camposanti e ha scassato la vostra cartella di canna. Quella che ha trovato... Quella che ha trovato lo saccio. Riccino quello che non lo saccio. La situazione a Napoli Nord non è buona. Al giorno non si sta preoccupando assai. Quindi a tempo mi ha nasconduto la frenuta. Mi ha dato un momento di correre con un carico. Non mi ha saputo il motivo per la vista di voi. Che che sei a casa mia. Non so che state aspettando un carico. Un carico rilevante. C'è stato un problema. Appena ti sapete di qualcuno. Ma qualcuno vuoi? Si è andato a un magazzino. Non si è andato a un po' di più. Poi ci sono appena. Poi ci sono piuttosto il suo porto di Sommoli. 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 GOMORA De luni fino a vineri. De la 11.30 seara. La Canal D2.